Gossip TV Alex Nucetelli esclusivamente a TAG24 ha rivelato come Francesco Totti abbia reagito in presenza di Ilari Blasi allo stadio in occasione del gioco di suo figlio Cristian. Durante la stessa discussione della separazione di Francesco Totti Ilari Blasi che si sono svolti La scorsa estate Alex Nucetelli si è spesso fatto portavoce dell'ex capitano di Giallorossi riferendosi allo sfondo del divorzio della coppia e sull'amore tra il burattino Noemi Bocchi. Alex Nucetelli rivela come Francesco Totti abbia reagito a vedere Ilari Blasi negli spalti nel gioco di suo figlio Cristian una figura. Quella accanto a Francesco. Che sembra parlare quando avrebbe intenzione di farlo. Ma per un motivo o per l'altro. Si tira indietro. Questa volta Nucetelli ai microfoni TAG24 ha riferito ciò che la vera reazione di Francesco Totti. Era sapere Ilari Blasi era sugli spalti a pochi metri da lui e Bocchi. In occasione della partita debutto del loro figlio maggiore Cristian. Le telecamere di Sport Italia hanno girato Totti e Noemi che vedono il profilo Instagram di Ilari. Ed entrambe sono apparse piuttosto scosse e stupite. Accordarsi ad Alex Reports. Francesco era tutt'altro che turbato. Davvero felice. Francesco non lo ha preso assolutamente ha detto Nucci mantiene i suoi figli prima di tutto. Quindi se la madre è presente è solo così felice. Penso che sia un fatto abbastanza normale. I ragazzi erano allo stadio e hanno visto che la madre era allo stadio. Il fatto che quelli malvagi affermino che è stato apposta? Assolutamente no. Pensa che una madre abbia il diritto di vedere suo figlio debuttare con Frosinone. Ilario è sempre stato una mamma eccellente e Francesco un papà eccellente. Ilari. Nel frattempo. Ha irradiato la domanda immortalata nello studio ottico della sorella e supponendo che dopo la. Visita sarebbe stata in grado di spiare ancora meglio. E dopo aver ricevuto un nuovo tapiro d'oro da staffelli. L'ex moglie del capitano ha condiviso un'igistorie che chiedevano a Striscia se fossero davvero. Sicuri che il tapir dipendesse da lei. In breve. Le frecce sociali non cambiano dopo un anno vengono combattute ancora di più e più seriamente in. Tribunale da incarichi. Rolex. Beni proprietà.